Studi e giri amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete, vorreste il Ballet Club in WWE? Beh, mettiamo i puntini sulle i, cos'è questo club? Beh, è un gruppo, una stable di lottatori che combatte in Giappone, riunita sotto la bandiera di questo nome. Inizialmente erano tutti stranieri e quindi rappresentavano, non dico un'anomalia, ma una particolarità all'interno della New Japan Pro Wrestling. In terra nipponica la fazione in passato ha visto tra le sue fila anche grossi calibri ora in WWE, come Finn Balor, AJ Styles, Hugh Gallows e Karl Anderson. Quei quattro che spesso, anche in tempi moderni, fanno riferimento a quei mesi molto fortunati per loro. Ora, la domanda mi è stata posta in diverse salse, non solo per come ve la propongo qua sopra, ma anche con qualche variabile. E si presta, chiaramente, a tante interpretazioni. Nel senso, volete Balor, Styles, Gallows ed Anderson alleati in WWE per formare una succursale del club? Oppure desiderate che l'alleanza giapponese con i suoi membri invada la WWE? Oppure una via di mezzo tra le due cose? Beh, io ci ho pensato un po' su e vi devo dire, insomma, devo ammettere, che in tutti i casi la mia risposta è no. E ve la motivo, ovviamente. No, per due motivi. Tanto qua in cabina ci sono rumori, strano, vabbè, le prossime domande le registro da un'altra parte. Magari domani. No, per tanti motivi, ma principalmente per due, che sono concatenati l'uno con l'altro. Allora, innanzitutto, è una storia che proviene da altrove. e proporla per puntare sull'effetto charmante del nome, del club, su una fetta specifica di pubblico, cioè quella che segue le federazioni mondiali, le indipendenti, eccetera, beh, sarebbe una trovata facile, a buon mercato, sinonimo di prigrizia e di ozio, tutto il contrario di quello che io desidero. E infatti arriviamo alla seconda motivazione. Ovvero che io preferisco cose nuove, creative, sorprendenti, magiche, e non la solita consuetudine inceppante che si riproduce e si replica senza mai mutarsi. Io trovo che ricorrere sempre al paracadute della sicurezza, passatemi questo termine, ma alla lunga faccia male al wrestling e che lo privi di quell'incantesimo, dell'ignoto, di quell'odissea che lo spettatore deve vivere e delle novità che devono sempre interessarlo che dovrebbero essere il carburante principale proprio del pro wrestling. I tizi del Ballet Club, del passato oppure quelli odierni, beh, insomma, è fuori discussione, sono preparati, validi, e le loro competenze sono riconosciute senza proprio mettersi neanche a discutere. Però quel ruolo, il ruolo del club, lo hanno già interpretato, c'è già stato. E la WWE dovrebbe avere la forza autorale per dare loro, sia quelli presenti, sia eventualmente, se mai ci staranno, quelli futuri che da lì arrivano, beh, dovrebbe dare loro degli scenari inediti, nuovi, degli scenari che non sono un tentativo di scimmiotare il passato, come già è stato fatto. E per questo il club, per me, non ha senso di esistere nei confini della compagnia dei Magmeo. Questa è la mia opinione. Però chiaramente, nel campo delle opinioni, ognuno ha le sue, no? Quindi io, la mia, ve l'ho detta, ve l'ho spiegata, ho provato a motivarla. Ora però sta a voi. Eh, sì, se no, scusate, parlo solo io e voi non scrivete mai. Dite a Roventi, qua sotto nei commenti, ditemi se voi vorreste questo club con gli atleti di oggi, con quelli che ci sono altrove, come lo gestireste, oppure se siete d'accordo con me e preferite non una minestra riproposta, ma una pietanza creativa nuova, che esce dalla cucina con addosso quel profumo che sa di ignoto e di mistero. Dai, aspetto i vostri commenti. Fatevi sotto. Yes!